Oggi sono qui per farti vedere un progetto che ho sviluppato diverso tempo fa. L'idea era quella di andare a realizzare un prodotto che andasse ad eliminare tutti quanti i consumi stand-by delle varie apparecchiature elettroniche, come ad esempio un PC, un televisore e di tutti quegli elettrodomestici che rimangono perennemente collegati alla presa elettrica, anche una volta spenti. Pensaci un attimo, quante volte stacchi la presa della TV quando la spengi? Sicuramente non la staccherai mai, come tutti. E così anche del PC, scommetto, e anche di altri dispositivi che avrai in casa. Quindi l'idea era quella di sviluppare una presa da inserire a metà tra la spina del televisore, ad esempio, e la presa di casa. Ma qual era il compito effettivo di questa presa? Funzionava tutto in modo completamente automatico. L'utente doveva accendere la TV e spengerla come aveva sempre fatto. La presa riconosceva in automatico il consumo della televisione o di qualsiasi alta apparecchiatura e sapeva distinguere se quell'apparecchiatura era accesa o se era spenta. Nel caso fosse stata spenta avrebbe staccato del tutto l'alimentazione per eliminare ogni consumo in stand-by. Sicuramente starei pensando, eh, ma i consumi in stand-by sono relativamente bassi, quindi magari non vanno ad incidere sulla bolletta o quant'altro. E qui però ti sbagli perché dipende se i dispositivi che abbiamo in casa sono molto recenti o più datati. Perché i dispositivi più datati hanno un consumo in stand-by molto più alto, che può portare a lungo andare ad un aumento di costi sulla bolletta. Invece, se avete dispositivi più recenti in casa, questo problema è relativo, visto che ormai le tecnologie sono così tanto all'avanguardia che hanno ridotto quasi al minimo il consumo in stand-by. Però fermati un attimo a pensare. Se invece di pensare alla nostra casa, pensiamo a un ufficio dove ci sono centinaia di PC, un ufficio magari enorme, con PC, stampanti e molti altri dispositivi, il consumo in stand-by comincia a diventare un qualcosa di più significativo. Allora là si potrebbe intervenire con una presa del genere. Adesso io e te andiamo insieme a prenderla, la tiriamo fuori dalla polvere e te la faccio vedere. Appena hai intuito di cosa si tratta, fammi sapere se secondo te devo portare avanti questo progetto. Perché ogni tanto ci ripenso e penso che possa essere un qualcosa di buono. Fammi sapere che non se ne pensi, scrivilo qui sotto nei commenti. Ok perfetto, andiamola a prendere nei meandri. Ecco di qua. E' una vita che non la tiravo fuori, è piena di polvere e bisogna pulirla. Ah, tutto sommato neanche troppo, pensavo peggio. Era legata con questo nastro perché praticamente non avevo più messo le viti perché ci stavo lavorando sopra, poi ho dovuto lasciare perdere. Ma adesso la andiamo a vedere meglio. E torniamo in ufficio. Ti giuro che in genere sono più ordinato di così. E ora dove la metto sta roba? Allora ti giuro che non sono riuscito a sistemare la cosa meglio di così. Comunque eccoci qui. Questa qui è la... Questo qui è un progetto che ho sviluppato circa tre anni fa. Non l'ho terminato perché poi sono sopraggiunte altre cose e l'ho lasciato praticamente, l'ho depositato lì da dove l'ho ritirato fuori oggi. Il dispositivo è composto da questa scheda che ho progettato e questa scheda che invece ho acquistato. Il circuito in questione è in grado di andare ad eliminare in automatico gli assorbimenti stand-by di tutti quanti i nostri apparecchi. Può essere un pc, può essere un televisore. Questa qui è la scheda madre, chiamiamola così. E questo qui è il dispositivo di riconoscimento a radiofrequenza. È un sensore a microonde che genera delle onde elettromagnetiche e riconosce la persona a una certa distanza, anche attraverso gli oggetti. Quindi la presa si andrà a riattivare in automatico quando ci andremo ad avvicinare all'oggetto che vogliamo accendere. Adesso cercherò di rimodellarla. Ho fatto un'impresa in mane per mettere tutti quanti i componenti dentro. Comunque sia, questo qui è solamente un prototipo ovviamente che avevo sviluppato per poi andare a fare un prodotto più interessante anche a livello di design. Qui, come potete vedere, questo qui può essere attaccato ad una presa e qui può essere messa la presa che deve essere poi disattivata. Anche per questo video siamo giunti alla fine. Se ti è piaciuto mi raccomando lascia un like, soprattutto per lei. Noi ci vediamo al prossimo video.